Olbia, in applicazione del protocollo d'intesa siglato in data 23 luglio 2020 da ADM e Comune di Olbia, finalizzato l'accertamento di violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e in materia di sicurezza dei prodotti, i funzionari ADM operanti presso la SOT di Olbia, congiuntamente agli operatori del nucleo Annona e Polizia Commerciale del Comando di Polizia Locale di Olbia, hanno effettuato un'operazione antifrode presso un punto vendita ubicato nella città di Olbia, che ha portato al sequestro, per la prima volta in Italia, di pupazzetti e gadget ispirati alla nota serie Netflix Squid Game, oltre ad altri giocattoli sprovvisti della marcatura CE e privi di etichettatura identificativa e delle necessarie avvertenze, in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli, nello specifico 78 pezzi, tra i quali anche i famosi pop-it antistress per bambini fatti di plastica morbida colorata, risultati non conformi agli standard di sicurezza e sprovvisti della marcatura CE sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Per l'esercente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro. Per 38 articoli recanti e marcatura CE non conforme, tra i quali anche 20 pelusci raffiguranti noti personaggi di Squid Game, è stata fatta segnalazione all'autorità giudiziaria per ipotesi di reato, per frode in commercio e per uso di prodotti consegni non conformi nella misura in cui la marcatura CE. China Export risulta tale da ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione che il simbolo CE indichi la conformità dei prodotti allo standard europeo. L'azione congiunta di ADM e Polizia Locale testimonia ancora una volta l'attenzione costante riposta a tutela dei consumatori nel garantire che le merci importate siano conformi agli standard di sicurezza dell'Unione Europea, con particolare riguardo ai giocattoli destinati ai bambini.